Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un argomento che si discosta un pochino da Bushcraft Survival, però è comunque inerente alla nostra attrezzatura, alle lame. In molti mi avete chiesto come faccio a fare i disegni sulle accette e sulle lame in generale e oggi vi voglio parlare proprio come incidere il metallo con poche cose che abbiamo a casa e fare veramente dei bei lavoretti sulle nostre accette eccetera, ok? Quindi se vi interessa l'argomento rimanete con me perché adesso vi spiego passo passo come poter fare scritte, loghi, disegni eccetera sulle nostre lame. Andiamo! In questo video vi mostrerò come faccio l'incisione sia al mora che a un coltello lancio e anche ad un'accetta. Quello che voglio fare è un'incisione sul mora, il mio classico mora Robust e è anche un'incisione sul uno dei miei coltelli da lancio in pratica, questo è un coltello da lancio e ne ho tre e vorrei fare una prova anche a incidere su questo coltello, ok? Questo lo porterò a lucido, a specchio, mentre questo gli ho fatto solo un bagnetto con l'aceto in modo da renderlo resistente alla corrosione, un bagno d'aceto di 24 ore. E infine voglio portare anche a specchio questa accetta qui e rimarcare il disegno che feci anni fa, ok? Andiamo a vedere cosa esce fuori. Allora amici parto con il mora che è quello più semplice da fare, utilizzerò l'incisione tramite ramazione che ora ve la farò vedere, ma prima di tutto andiamo a incartare un pochettino e poi a lucidare, a pulire e iniziamo l'incisione. Ora per lucidare io utilizzo questo kit della Lux Metal che vi lascio comunque anche questo in descrizione se volete dargli un'occhiata se vi interessa. E' composto il kit da quattro panetti di pasta abrasiva, di diversa granulometria, quindi diversa abrasione e anche di dischetti diversi, uno per ogni pasta. In pratica vedete anche il colore riprende il dischetto, ok? Così non ci possiamo sbagliare. E' un kit completo, viene di tutto anche con questi dischetti, con questa presa per il trapano. C'è anche un kit per la mola da banco, quindi con dischi più grandi se vi interessa. Io la utilizzo sia per lucidare, però ho preferito questa trapano perché io utilizzo anche per lucidare altre cose e quindi non solo le lame. Iniziamo, andiamo a vedere come funziona. Allora amici, ho bloccato il trapano nella morsa e ho sistemato il tutto. Ora mentre gira passerò la pasta abrasiva sul disco in modo da lasciarla sul disco e dopo inizierò la lucidatura. cambiamo, passiamo alla penultima. Quella più sottile ora utilizziamo. Allora amici, guardate come è uscita bella lucida. Vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Ci si può letteralmente specchiare, guardate ragazzi, è diventato uno specchio in pratica. Vi faccio vedere il riflesso del mio dito. Vedete? È proprio a specchio, uno specchio diventato. Guardate come è lucida. Ok? Quindi, devo dire che è uscito veramente lucido come volevo. Devo dire che il kit funziona veramente bene ragazzi. Ovviamente per ottenere un risultato del genere deve essere già prima la superficie carteggiata con della carta molto sottile, ok? E poi si passa alla lucidatura. Non si deve aspettare che magari un coltello brutto rovinato passiamo con questo diventa specchio. No, bisogna per forza prima passare pre-step dalla grana sottile di carta vetrata e poi si passa alla lucidatura. Però, devo dire che è uscito veramente bene. Ora proverò a fare la stessa cosa con l'accetta. Vediamo cosa esce. Bene amici, ora, prima di passare alla lucidatura non è uscita in modo perfetto perché mi mancava alcune carte abrasive intermedie. Quindi sono passato da una grossa a una un po' troppo fine e quindi è rimasta qualche piccola righettina, qualche imperfezione. Però, ci accontentiamo così, andiamo avanti perché vi devo comunque far vedere l'incisione altrimenti perdiamo troppo tempo. Andiamo! Allora amici, ecco, ho finito. Guardate un po' come brilla. Nonostante che non abbia fatto un eccellente lavoro con la carta vetrata all'inizio, comunque è lucidato veramente bene devo dire. Guardate, ora non so se si riesce a apprezzare, ma è proprio a specchio. Guardate il dito, come riflette, ok? Ok, ora che abbiamo lucidato così, allora un piccolo consiglio quando lucidate, se potete, lucidate sia in un verso che nell'altro. Così la lucidatura esce più viva. Ora andiamo avanti e vi mostro il primo metodo di incisione, che lo faremo però sul Mora. Tramite ramazione. Adesso vi spiego. Ah, e un'altra cosa. Prima di iniziare a lucidare, a fare qualunque cosa, ho foderato, per proteggere parzialmente il manico, con del nastro solante e sopra invece qua ho tappato leggermente con un velino di colla vinavil, ok? Giusto per non far entrare acqua o altre cose. Allora amici, il primo metodo che vi spiego, quello proprio più semplice, anche se non fa un'incisione molto profonda, ma un'incisione superficiale, ok? Quindi molto leggera. E lo utilizzerò sul Mora, ve lo farò vedere. Cosa si usa? Si usa solfato di rame. Eccolo qua. Solfato di rame. Si trova in qualunque agraria, ok? Lo vendono in sacchetti così, o anche più piccoli, e sono granelli, in pratica. Sono granelli blu. La particolarità di questi granelli è che hanno una percentuale di rame e una percentuale di acido, ok? Quindi è proprio quello che andrà a intaccare. E' bello che con questo sistema possiamo fare anche dei disegni ramati, ok? Oltre che incidere. Dopo ve lo farò vedere, lo proviamo proprio sul Mora. La soluzione è come farla. Si prende una bottigliettina, quindi si riempie tutta di acqua deminorizzata, e si inseriscono i granelli all'interno. La proporzione è quando a sufficienza si riesce a saturare completamente l'acqua. Quindi voi aggiungete. Se vedete che i granelli all'interno dopo un po' si sciolgono, vuol dire che ne dovete aggiungere. Fino a che vedrete che a un certo punto i granelli non si sciolgono più perché l'acqua è satura, ok? Di solfato di rame, e rimangono sul fondo i granelli. Vedete? A un certo punto non si riescono più a sciogliere perché la soluzione è satura. In questo momento è pronto. Lo lasciamo riposare qualche ora, agitandolo di tanto in tanto, ed è pronta, ok? Andiamo a vedere l'applicazione. Allora amici, ora, la prima cosa da fare dopo ovviamente aver incartato e lucidato, è pulire bene la lama, ok? Possiamo utilizzare alcol o meglio ancora se abbiamo acetone. In questo caso io ho l'acetone, lo utilizzerò questo qui. Uno straccetto pulito, e andrò a pulire tutta la lama per bene, in modo da rimuovere il grasso. Ora, dopo aver fatto questa pulizia con l'acetone, cerchiamo, se è possibile, di non toccare la lama anche con le dita, altrimenti possiamo lasciare le impronte di grasso della mano, ok? Ecco qua. Ora amici, per fare il disegno, io cosa faccio? Innanzitutto vado a incartare lasciando solo la parte che mi serve, ok? Ok? Ecco qua. Ho lasciato solo lo spazio che voglio disegnare, ok? Ora, utilizzerò una vernice che sarebbe un fondo primer, in pratica, vi lascio anche questo in descrizione, e ci passerò giusto una mano leggera di leggera di fondo primer, di vernice. Ok? Ok. Ora lasciamo ad asciugare, e poi con il laser io lo andrò a disegnare, ok? Se non avete il laser potete utilizzare sempre la decalcomania che feci vedere nell'ultimo video, ok? Quindi se non l'avete visto, andatevi a vedere, gli spiego come trasferire un'immagine, ricaricandola poi su qualunque materiale che può essere legno o in questo caso della vernice. Una volta effettuato questo lavoro, ci basterà solamente disegnare o a mano libera o ricalcare, e poi lo andiamo a ritagliare, ma lo vediamo dopo. Adesso lo andrò a incidere con il laser, il disegno che voglio, e dopo andiamo avanti. Eccoci qua amici, vedete? Ora, sia che l'abbiamo disegnato con il laser, quindi già fatto così, oppure con un disegno, dobbiamo tagliare la vernice, ok? Lo possiamo fare con un affarino del genere, quindi piano piano, con molta precisione, andiamo a ritagliare tutta la vernice, tutto il disegno in pratica. Dopodiché, ho con questo qua, ma io ho fatto un utensile apposta, eccolo qua, ve lo faccio vedere, è un pezzettino di legno, in pratica, con due viti, gli ho messo due viti, poi li ho tagliati su misura, e li ho appuntiti, praticamente, ok? Vedete? Ho fatto la punta, sia da una parte che dall'altra. Questa è un po' più grossolana, per rimuovere la vernice più grossa, e poi nei punti più sottili, utilizzo questa che è più a spillo, diciamo, ok? Ora vi faccio vedere cosa intendo che è più facile farvelo vedere che a spiegarlo. Ora, piano piano, andiamo a far saltare la vernice, ok? Con molta delicatezza e precisione, andiamo a far saltare la vernice, solamente nei punti in cui vogliamo esporre il materiale per l'incisione. Vedete? Ok? Andrò a rimuovere tutta la vernice. Eccoci qua, ci siamo riusciti. Ci vuole una bella mano ferma, però ci si riesce, via. Allora, ora possiamo mettere il nostro liquido sopra, ok? Per cominciare a fare l'incisione. Quindi ci vogliono guanti e occhialini. Ora lo mettiamo bello in piano e piano piano andiamo a versare il liquido sopra. Farà effetto goccia, quindi non se ne andrà in giro. Dobbiamo solo avere pazienza. Ecco, spargerlo bene su tutta la superficie. Eccolo qua. Vedete? Ora ci basta solamente aspettare una mezz'oretta. Eccoci qua. È passata mezz'ora e siccome ne ho messo in abbondanza, dopo un po' l'acido, oltre che corrodere l'acciaio, fa saltare il rame. Quindi si stacca proprio solamente togliendolo. Si creano veramente delle piccole lamelline in pratica. Proprio il rame. Ok? Come potete vedere. Non so se si riesce a apprezzare. Vediamo un po' se ve lo riesco a mostrare. Guardate. Si crea proprio del rame superficiale. Ok? Ora. In questo caso abbiamo tre opzioni. Uno. Pulire tutto. E far saltare anche la vernice. E quindi lasciare il disegno grigio. Ok? Sul lucido. Seconda opzione. Andiamo a pulire, però senza far saltare la vernice. Puliamo, laviamo. E dopo, con un cotton fioc, andiamo a ramare solo superficialmente, in modo che aggredisce, ma senza corrodere di nuovo. Ok? E viene praticamente di colore ramato il disegno. Altra opzione ancora sarebbe ripulirlo, lavarlo, senza far saltare la vernice, andare a depositare del brunitore. Io uso il balistol per questi lavori qua, in pratica. Ve lo lascio anche in descrizione, se volete vedere. Per questo lavoro qua, anche il balistol, se lo volete bello nero, quindi ben definito il disegno, il balistol è perfetto. Ok? E dopo, una volta passato anche il balistol, togliamo la vernice, facciamo saltare tutta la vernice, e rimane il disegno sulla lama lucida. Ok? Per ora io andrò a pulire, a rimuovere praticamente il rame. Quello che voglio fare è provare a vedere se riesco a ramare solamente la parte centrale. Vediamo un po' se ci riesco. Vedete? Basta passare il cotton fioc, e già quello in pochi secondi avviene la ramazione. Vedete? Ora andiamo a asciugare, altrimenti salta un'altra volta. Ok? Se vogliamo l'incisione ancora più profonda, semplicemente ci basta rifare il processo, quindi rimettere di nuovo il liquido sopra, tolto il rame ovviamente, perché il primo rame salta, e poi rimettiamo il liquido. E avremo un'incisione ancora più profonda. Ecco qua. Ora andrò a far saltare tutta la vernice, vediamo come esce. Ecco qua amici il risultato. Ora, poteva venire meglio se mi applicavo un pochino di più, però va bene anche così, via. Se fosse stato un disegno più grande sarebbe uscito meglio, per una lama così piccola inciderla è un po' complicata, però via, va bene lo stesso. Ma adesso andiamo a vedere il secondo metodo. Incisione tramite elettrolisi. Andiamo a vedere che vi spiego tutto. Allora amici, per fare questo tipo di incisione, ci servirà un secchiello, diciamo, ok, come questo qua. Questo l'ho comprato dai cinesi in tre o come pare. Va benissimo nello scopo, ok? Dell'acqua, riempito fino a un certo livello, che ci interessa, dopo andiamo a vedere. Poi, semplicemente del sale da cucina, e un caricatore da batteria, ok? Da 12 volt, diciamo, ok? Quelli classici per ricaricare le batterie delle macchine. Può andare bene anche una batteria da 12 volt, bella carica, se ce l'abbiamo. Poi mi hanno detto che si può fare anche con la salatrice, però io non ci ho provato, perché comunque questo ho visto che mi funziona bene, e quindi vado con questo qui, ok? Sale da cucina. Ecco qua. Mescoliamo un pochino, così da far sciogliere il sale. Dobbiamo creare praticamente una soluzione satura di sale. Quando vediamo che sul fondo rimane un pochino di sale, perché non si risolve nell'acqua, a questo punto siamo pronti. Poi, amici, abbiamo bisogno di un'altra cosa, di due placchettine di acciaio, ok? Collegate con un filo di ferro, anche un filo di arame, va bene lo stesso. L'importante è che sia bello spesso, perché comunque un po' si scalda. E questi qua, praticamente, io li ho ricavati, queste due piastrine, da uno stampino per i dolci. Si trovano anche nei negozi di cinesi. L'ho aperto, e l'ho tagliato a metà. E io ho fatto queste due placchette di acciaio, semplicemente. Le ho collegate con un forellino ad un filo di ferro. E ora, quello che andiamo a fare è inserire all'interno una da una parte, quindi a destra, e una a sinistra. Vedete? In questo modo. Devemo stare immerse. Ecco qua. Va benissimo. E qui abbiamo il nostro contatto, che sarebbe il filo di ferro. Allora, amici. Ora, inizierò con il coltello. L'ho già verniciato, già ricavato tutto quanto. Lo stesso metodo di prima che abbiamo visto. Sempre con il punteruolo ho rimosso la vernice. E ora, siamo pronti. Iniziamo con il coltello. Farò prima una parte, e poi l'altra, perché la vaschetta è troppo bassa, e quindi non ce la fa a prendere tutto il coltello in una volta. Allora, farò prima la parte di sotto. L'acqua, il livello dell'acqua deve essere giusto che copre, ovviamente, il disegno. Ok? La parte che dobbiamo incidere. Il negativo lo mettiamo al fil di ferro, quindi alle due placchette laterali, e il positivo, invece, lo mettiamo sul coltello. Mi raccomando, questa cosa è importante perché altrimenti si corrodono le placchettine e non il coltello. Ok? Poi una cosa importante è il caricabatteria teniamolo più lontano possibile dall'acqua per motivi di sicurezza che comunque abbiamo a che fare con l'elettricità. Quindi cerchiamo di tenerlo alto e lontano dall'acqua. Ok. Ora, in teoria, siamo pronti. Mi manca solamente collegare il positivo al coltello e il tutto dovrebbe già funzionare. Vediamo? Diamo il via? Andiamo. Guardate come inizia a friggere. Un'altra cosa importante è che il coltello, o insomma, qualsiasi cosa dobbiamo incidere, sia giusto al centro tra le due placchette di acciaio. Ok? Un'altra cosa importante è il tempo. Poi dipende anche cosa utilizziamo per fare, perché io sto utilizzando il caricabatterie, però magari una salatrice ci metterà molto meno tempo. Calcolate questo, che se usate un caricabatterie come il mio, io in 5 minuti ho fatto l'incisione. Se aspetto 7-8 minuti già faccio un'incisione abbastanza profonda. Se arrivo a 10 già mi fa un'incisione fin troppo profonda. Ok? Quindi anche il tempo è molto importante. Diciamo che può variare dai 5 a massimo massimo 10 minuti. Ma già a 5 minuti si ottiene una bella incisione a buona profondità. Io di solito vado intorno ai 5-6 minuti. Per le placchette possiamo usare qualsiasi cosa che sia acciaio. Possiamo anche utilizzare due cucchiai per esempio. Ok? Se non abbiamo nient'altro. Sono passati 6 minuti e secondo me va bene. Già ci siamo. Sì. adesso lo asciugo un pochino e faccio quest'altro lato. Ora sto facendo la parte di sotto. Sto utilizzando questi morsetti per tenere il coltello alla giusta altezza. E un minuto ed è pronto. Eccoci qua ragazzi. Ora gli darò una bella lavata e poi gli metterò un po' di brunitore balistol. Ok? Andiamo a vedere. Bene amici gli ho passato il brunitore della balistol. Ora aspettiamo che si asciughi e poi facciamo saltare la vernice. Sto facendo saltare la vernice con un taglierino. Ovviamente se la lama fosse stata portata a lucido a specchio non avrei utilizzato il taglierino ovviamente perché altrimenti si può graffiare. Avrei usato diluente acquaraggia acetone insomma solventi per far saltare la vernice. In questo caso siccome non è a specchio la lama va benissimo anche il taglierino. L'ho pulito dalla vernice e ora solo una passata di olio anche per proteggere poi il tutto. Coltello finito. Guardate spaziale vero? Tanta roba. E si nota proprio che è a rilievo perché se si tocca al tatto si sente proprio l'incisione. Ok? Ora amici passiamo all'accetta è già pronta incartata e tutto quanto andiamo a fare l'elettrolisi ma una cosa importante vi voglio dire quando facciamo lo spray quindi quando passiamo la vernice io vi consiglio di fare almeno due passate ok? Allora se la superficie non è lucida due passate sono sufficienti se no anche tre ok? perché se no dopo quando andate a incidere con il punteruolo la vernice vi salterà in modo poco preciso ok? Per capirci quindi per fare un buon lavoro ci voglio almeno due o tre mani di vernice e ancora meglio sarebbe tagliare prima con il taglierino tutta la forma tutta la sagoma e dopo con il punteruolo far saltare la vernice andiamo avanti ora la parte di sopra è già stata fatta e dopo vi farò vedere come è uscita ora sta facendo la metà di sotto in pratica altrimenti non potevo fare tutto quanto insieme perché comunque una parte deve rimanere esposta perché deve fare il contatto con il positivo e quindi qui ho messo un chiodino con del nastro in modo da fare contatto stesso sulla testa e poi il restante ovviamente quella la parte da incidere va nell'acqua amici ecco qua il risultato ho approfittato e ho fatto anche un'incisione sulla mia accetta da intaglio potete vedere ho messo il mio logo ecco qua coltelli tutti e tre finiti e ho completato l'opera spero che vi piaccia bene amici per quanto riguarda la copertura mi è stata consigliata anche di provare la catramina spray ok però devo essere sincero non l'ho ancora provata sicuramente in futuro sicuramente in futuro la proverò anche per vedere i risultati se è meglio o peggio della vernice comunque se per caso utilizzate la catramina spray fatemi sapere ok poi fatemi sapere nei commenti se conoscevate già queste due tecniche se le avete utilizzate e cosa ne pensate va bene per qualsiasi informazione per maggiore dettaglio su qualcosa non esitate a scrivermi nei commenti io cercherò comunque sempre di rispondere sono a vostra disposizione se vi posso dare una mano con tutto il cuore e in futuro vi farò vedere anche come restaurerò una grossa accetta ad abbattimento e facendo delle incisioni a vari livelli quindi dando anche come dire una sensazione di profondità ok al disegno quindi lì sarà anche un'altra tecnica quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere anche questo interessante video bene amici siamo giunti al termine io spero di tutto cuore che il video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile come sempre prima di lasciarvi vi ricordo la mia pagina instagram dove pubblico i miei lavori alcune skill e tanto altro quindi non dimenticatevi se volete potete anche seguirmi sulla mia pagina instagram io vi ringrazio amici e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.